Piazza San Silvestro, capolinea storico e cuore politico di Roma, si rifà il look e si prepara a diventare la prima piazza pedonale artistica della città, per la gioia, ma non troppo, di pedoni automobilisti e turisti che ogni giorno transitano da quelle parti. Tra fermate attac soppresse o spostate, strade chiuse al transito e traffico in tilt, la vita si fa dura per chi passa ogni giorno a Largochigi e dintorni, ma per vedere l'opera conclusa bisognerà aspettare almeno fino a Natale.